Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video, dopo aver sconfitto il Pokémon dominante Klaw, beh, direi che ora è giunto il momento di... perché no? Andare a sfidare il Team Star. Dato che ho preso una medaglia palestra, una medaglia dominante, una medaglia del Team Star, insomma, non sarebbe proprio tanto schifo. Il primo membro del Team Star lo troviamo proprio qua vicino all'Ostazones, quindi dirigiamoci lì e poi proseguiamo per andare verso la base. Sono tutti quanti concentrati vicini queste tre medaglie, Dominante e l'Ostazones. Ok, 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 il mulino, bene o male, anche dalla distanza rende abbastanza bene. Dunque, l'Ostazones. Sono un attimino rimasto rapito dal mulino. Dicevo, sono tutti quanti vicini questi tre punti di interesse, quindi direi che la base del Team Star possiamo farla prima della palestra, in modo da vedere, insomma, un po' tutto quanto quello che succede, come si svolge il tutto. Ok, no, qui ci sono le montagne, ma qua c'è la viuzza. Andiamo a prendere... Ah, di qua sta? Ok, allora. Ah, ok. La famosa opera, un MT. Ah, faccio il giro qui, dai. Che bello, la forma cavalcatura, almeno possiamo correre veloci. La corsa. Allora, la base del Team Star, eccola, già la vedo, va? Si vedono gli standardi. Però, si entra da lì? Si entra? Volendo potrei anche buttarmi da qua sopra. No, chi è? Cassiopea. Prima era Beppe, stavolta è Cassiopea, stiamo vicino alla base. Ecco, sono il mio Cassiopea. Vedo che sei vicino alla base del Team Star. Vuol dire che hai deciso di aiutarmi dalla mia missione? Eh, se proprio devo. Insomma. Grazie, e con ciò anche tu sei diventato membro ufficiale dell'operazione Stardust. Un momento, chi è? Ma il preside? Il vostro discorso mi intriga assai. E tu chi sei? È Garof. No, tu sei il preside. Da quant'è che ci stavi spiando? Ehi, manteniamo la calma, non c'è motivo di agitarsi così. Link mi conosce bene, siamo amiconi, giusto? Ma chi ti conosce? Oh, sempre il solito timidone. Ma quale timidone? Ma cosa dici? Anche io ho delle faccende in sospeso con quel team. E non per vantarmi, ma sono uno che sa il fatto suo. Sei fortunato che al momento ci serve tutto l'aiuto che possiamo trovare, quindi benvenuto. Fantastico. Sono il preced... No, ti basti sapere che io e il Team Star abbiamo dei conti in sospeso. Capisco. Allora non chiedo altro. Il preside sa qualcosa. Ah no, lui è Garof, non è il preside. Bando alle ciance. Ora vi spiegherò in cosa consiste l'operazione Stardust. Qual è concretamente la nostra missione? Te lo sta per dire. Devi penetrare nelle basi del Team Star. Una volta lì, individuate le persone a capo di ogni banda, sconfiggetele e deponetele. Le mettiamo a terra, cioè. Vicino a voi dovrebbe esserci giusto il cancello di una di queste basi. Questa è la divisione fuoco e si vede dalle fiamme che hanno. Anche dal fatto che Mela usava dei Pokémon fuoco nel trailer. Oltre a quel cancello c'è una delle basi che cerchiamo. E da qualche parte all'interno c'è uno dei capi banda che dovrete sconfiggere. Il che è una cosa buona e giusta. Il Team Star ha un rigoroso codice di condotta. Se qualcuno sfida un capo banda a una lotta, quest'ultimo è obbligato ad accettare. E per di più, se questo capo perde la sfida, è costretto ad abbandonare la posizione. Poco fa ho mandato ogni base delle sfide al Dome Tuolink. Una dichiarazione di guerra in pratica. Ma tu mi stai dicendo che hai... Tu mi stai dicendo quindi che hai fatto il porco comodo tuo a nome mio. Io ti denuncio. Ma qui parte la denunzia. Senza un capo a tenere le redini, il resto della banda si sgretolerà da solo. Ma c'è un problema. Le basi sono vaste e al loro interno vagano molti Pokémon pronti a fermare gli intrusi. Un allenatore mediocre non potrebbe neanche sognarsi di arrivare a capo banda. Ed è per questo che abbiamo bisogno delle tue capacità, Link. Manda K.O. i Pokémon all'interno delle basi e fai uscire allo scoperto i capi banda. Innanzitutto bisogna entrare. Stavo pensando che ho colof che è tipo roccia. Per farlo occorre sistemare le guardie davanti all'entrata. E tu non ci darai una mano? Come ho già detto io e il Teamster abbiamo dei conti in sospeso. Non posso collaborare con voi a viso aperto. Vi manderai una mano da dietro alle quinte. Io che ruolo ho in tutto ciò? Spiacente ma non posso certo fidarmi del primo arrivato. Per ora pensa a fare da Paolo e aiuta Link. Ok Paolo. Non posso biasimarti. Vi chiamerò di nuovo quando il piano avanzerà alla prossima fase. Buona fortuna a tutti e due. Quindi una volta che abbiamo sconfitto nel Recruiter. Io ho un uomo di oltre 50 anni che va in giro con i pantaloncini da ragazzino. Mi dà molto a cui pensare. Dunque ho messo Pomi in squadra perché mi serve un tipo elettro. Così perché si possono affrontare le squadre qui solo con i primi tre. Ma questo Lit Leo è un po' grosso. Non mi dispiacerebbe catturarlo e far revolvere e poi diventa enorme. Diventa una bestia mastodontica. Ehi tu che sei venuto a fare qui? Questa è una delle basi del Teamster. Ti consiglio di tornarti da dove sei venuto. Sarà costretto a stare le maniere forti. Non ci penso proprio amico mio. Sono venuto da molto lontano. E va bene, mi cerco stretto. Preparati perché le maniere non sono forti, ma fortissime. Tanto questo si è fatto un cannoncino proprio di quelli potenti. Ecco. Per fare questa posa solo un cannoncino ti può essere fatto. Ah, Andaur. In linea col tipo fuoco. Certo. Pomi. Ma che? Cosa? Intendevo mandare avanti i cloff veramente. Ma non so cosa ho fatto. Per sbaglio ho messo Pomi davanti. Va bene. Senti fra come pompa la musica. Questo è Toby Fox. 100%. Me lo sento per le ossa proprio che è Toby Fox. Bella, porca... Bellissima, porca miseria, la musica. Oh no, tu sei ancora più forte delle mie maniere. Vabbè, sì. Io sono quel più bello che ha dichiarato guerra. In realtà è stato qualcun altro a nome mio. Non è molto gentile, devo avvisare gli altri. Grazie, eh. E astra la vista! Sì. Astra la victoria sempre. Ehi, Link! Va dai, eh. Ho appena finito lì per lo strano dentro nella base. Ho deciso di venire a dare una mano, quindi. Ho già fatto. Chi è? Ma un piccolo char cadet. Ma... Sbaglio tu sei charletto. Come fai a riconoscerlo? Cos'è? Pippo di fuori per riconoscerlo? Lo sapevo, sei tu. Ma che ci fai qui? Ah, per caso vi conoscete? Questo è un char cadet. Si chiama charletto. Charletto. È uno dei Pokémon di cui ci prendiamo cura all'accademia. Ma che ne sai tu? Aspetta, charletto, ma dove vai? Che charletto c'entri qualcosa con la divisione fuoco del Team Star? Beh, in ogni caso devo raggiungerlo. Tu avanza pure dalla base, Link. Ci penso io. Ora vado a spilare tutti quanti i membri e poi spido anche la capobanda. Vedo che sei riuscito a liberarti della recluta. In quella base si nasconde la banda Skedar, la divisione fuoco del Team Star. Skedar, che è tipo il nome di una costellazione del... Penso che sia la corruzione di Shedar, ma comunque non importa. E la nostra dichiarazione di guerra le avrà fatto ribollire il sangue delle vene. E immagino che le sue reclute siano tutte a suo cospetto. Va bene. Devo mandarle K.O. tra l'altra. Quando non ci sarà più nessuno in grado di calmare la sua rabbia, può essere certo che uscirà lo scoperto anche Pruna in persona. E' tempo di darò una batosta alla banda Shedar. Quando sarai pronto a dare via l'incursione suonare il gong. Bene. Lo farò. Vai. Vediamo il gong. Che è un incontro di wrestling. Ding ding! E allora? Mettiamoci bene comodi. Link, fai attenzione. Il Team Star predilege un tipo di lotta particolare. Pare lo chiamilo carica stellare. In breve si mandano in campo più Pokémon contemporaneamente con il pulsante R. Ah, tipo Let's Go Feature. Se qualcuno dei tuoi Pokémon finisce K.O., torna da me. Mi renderò utile rimettendolo in sesto. Guarda un po', l'ho provvenuto fatto irruzione qui senza sapere dove metteva piede. Forza, buttiamolo fuori. Farà bene a tenere a mente quanto è tenibile il Team Star. Se riesci a sfiggere 30 dei nostri Pokémon entro 10 minuti potresti avere l'onore di rincontrare il nostro capo. Incontrare? Non di rincontrare. Che mica l'ho già incontrato. I distributori. Ok, premendo Y posso battere ritirata. Come funziona? Oh, attacchi mi attacchi. Eh. Qua, forza. Quindi così ripuntiamo. Voi. Forti, oh. Forti i miei Pokémon, eh. Non penso guadagno esperienza in questo... Dov'ha? Oh! Ma è pazzo? Ok, qui ancora non sembra soffrire troppo il gioco, eh. Anche se un pochino ce l'ha, eh. Un pelino, proprio pelo, pelo di lag minuscolo ce l'ha. Chi c'era là? Ma io posso quindi curarmi con la roba... Questa con gli distributori? Un po' andare a curare un pochetto con gli distributori, guarda. Eccolo il lag... Aiuto! Aiuto! Ok. Ottimo. Ovviamente gratis, perché, sai... Mica si paga sta roba. C'era con me questo? E tacchete, oh! Dove stanni i Pokémon miei? Torna un po' dentro tu, allora. Hai doppio calcio ed è fatta. Dove stanno gli altri qua? Altri tre, forza! Bene, ma dove vai? Eh, non lo so, amico mio. Non lo scelgo io, a quanto pari dove vanno i Pokémon miei. Manca solo uno, dai. Non lo scelgo io, dai. Allora, se tu il bambino è stato spidarci. Guarda, non mi interessa ne perché per comodire la situazione. Qui c'è solo una cosa che conta. Tu ci hai spidati e quindi non tocca prenderle. Preparati! Non posso neanche prepararmi i Pokémon? Vai, incazzatissima! Vestita di pelle, sugli stivaloni. Ma dove pensi di essere? Orrei in party? Preparati, per te finisce qui. No. Si eccita, porca porca. E' troppo male. E mi sa che finisce così. Potrei terastallizzare? Questa massa ti brucerà e ti ridurrà in cenere! Non mi dica ruota a fuoco. Eh, si. Aia! Fa male, però. Mi scotta, però, peggio. E questo è per l'elecutica sconfitto. Ma, signorina, lei è una bimba, lei. Vai, vado in terastall. Roccio, tiomba! Vediamo un po'. Che non si può dire tomba, quindi si dice tiomba. Guarda che bellino. Ha praticamente un tempio greco in testa. E il danno è uguale a prima. A cosa serve la terastall? A niente. Eh, non è molto efficace, ma fa male o boia. Ci picchia. Ah, il lag. Ah, è bellissimo. Aiaioi. Bello, però. Sembra davvero un party. Accidenti. Ora lì. Musica a tutto volume. Escono dalle casse della star mobile. Anche devo recuperare un po' di salute, non fa niente. Altra super potion e via. Dunque. Dopo quindi entra in campo la star mobile? Eh? Bello sta porca. È davvero bella la musica. L'unica cosa che Pokémon non canna mai è la musica. Game Freak con la musica ci azzecca sempre. Revavroom. Ma dai, ma che nome è Revavroom? Sai da che credi? Ne ho ancora di carburante da bruciare. È una macchina per davvero? Ma no, dai, non può essere così un Pokémon, dai. Vampata. Facciamo un clove arrosto. Buono il danno! Con altri 50 rocciodomba ce la facciamo. Acceleratore. Non è una cosa buona. Cavolo, Kloff a sto giro prende un bel po' di turbo uspione. Che è fisica, immagino, visto che si avvicina. Acceleratore. Non mi piace. Allora, crocciodomba, insomma, un pochino lo tratteniamo, eh. Se colpisco, ovviamente. Devo colpire. Dunque, turbo ustione dovrebbe un po' farmi male. No, penso... Non la reggo, non la reggo. Eccala lì. C'è la maiala. Si chiama turbo ustione. Cosa vuoi fare? Mando, puoi prendere il colpo. Va K.O. Quasi sicuramente. Mando. Flamigo. Doppio calcio, doppio calcio, doppio calcio e ce la risolviamo. Sempre che non venga scottato, ovviamente. Beh. Perché attacca per primo, visto che acceleratore sta... Tocoso. Mamma mia. Ah, ma il Pokémon è quello lì. Beh, sembra che è grosso. Accidenti a lui. Ma ha altri motorini attaccati sopra? Eh, per alimentare la Star Mobile ci vuole un bel motorone. Stridio? Hai paura? Di cosa? Mmm, interessante. Ok. Possiamo farcela. Ora farà turbo ustione perché ci ha fatto stridio. Allora, lui deve andare K.O. Per forza. Flamigo. Dopo chi mando, però. La terastal l'ho sciardata in quella maniera. No, però lui ancora è terastalizzato. Allora facciamo così. Facciamo anti-scottatura su K.O.F. Dunque, Roccia e Notta gli fanno male, quindi è fuoco. Ehm, voglio dire, è acciaio. Vabbè, non è male, eh. Potrei... Potrei... Potrei usare Croccomela. Potrei usare Croccomela. Che tanto è fuoco. Turbo ustione non mi fa nulla. Non mi scotta. Beh, sì. Poco efficace. È acciaio fuoco? Non è acciaio, no. È solo fuoco? Poco buio? No, effetto normale. Che cacchio di tipo è? Vabbè, vado con Croccomela. Turbo ustione almeno non mi fa niente. Ah, fa stridio, certo. Hmm, ho un'idea allora. Potrei pomparmi il coccodrillo? Ok, potrei pomparmi il coccodrillo. Perché ho? Ah, no. No, 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 no. Però sta roba no. Attacco X per l'attacco fisico. Vediamo un po' come va, un attimino. Voglio vedere come continua. Doppio stridio. Me lo vuole fare fuori con un corpo solo. Turbo ustione. Vediamo un po'. Eccolo qua. Eh, fa un bel po' fa, sì. È tosta, perché sono di livello alto. Più alto del mio. Di un bel po'. Io sto a massimo al 22. Non me lo aspettavo così forte, dire il vero. Posso farcela però, dai. Posso farcela facilmente con Kloff ora. Perché è ancora in terra, Stahl. Quindi, dai. Ci se la fa, ci se la fa. Turbo ustione. Non so quanti pipi abbia, ma dovrebbe essere ormai quasi finiti. Però Rocciotombe è super efficace. Perché? Ok, bel danno. Dunque, posso prendere un altro Turbo ustione senza problemi. Eh, perfetto. Ora ricarico. Rocciotombe e vinco, dai. Dovrei in teoria fare un altro Rocciotombe. Sì, un altro Rocciotombe. Forse qualcosina in più. Allora. Dai, sì, acceleratore ormai è inutile. Vediamo un po'. Una super pozzoncina qua, perfetta. Tostarella, Stalotta. E non me l'aspettavo così tosta. Mi conviene remitalizzare anche gli altri? Ha finito Turbo ustione. Ha finito Turbo ustione, dai. Dai, l'ha finita Turbo ustione. Ho 18 remitalizzanti. Remitalizzo gli altri. Me la prendo molto comoda. Anche i biscotti non me ne frega niente. Perfetto. Eh, questa more ormai è cillata, Stalotta. Dai, proprio tranquilla. È fatta. Bene, bene, bene. Mi piace. Eh, stridio, amico mio, stridio. Dovevi pensarci prima a fare stridio. E cavolo, però, se questo fa stridio, mo mi killa. Eh no, io ho paura. Non mi dire che mi frega così con stridio e Turbo ustione. Mi frega con stridio e Turbo ustione? Mi ha fregato davvero? Hai capito? Che pezzettin di... Hai capito? Va bene, va bene. Mi ha fregato alla grande. Allora, un attimino che mi sono un attimino perso qui la cosa. Allora. Remitalizziamo Kloff. E via. Vabbè, sì, Turbo ustione. Perfetto. Scirodo lo ciao. Non importa, era sacrificare lui. Kloff ora può prendere un Turbo ustione e una vampata. Quindi, vampata ormai proprio va bene. Ne fai un'altra e è finita. Perché proprio l'attacco speciale è in esistente ormai. Dai, Roccio tomba. Fa stridio. Evita l'attacco. Kloff invece attacca e... Per un pezzettino. Per un pezzettino proprio. Guarda, ti finisco con Spaccaroccia proprio perché sei... Che sei bello. Non è brutto come Pokémon, dai. Un po' atipico. Però in un gioco dove ci sono motori a destra e a manca, uno in più non fa differenza. Pruna! Eh, au, 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 au. Mamma mia. Beh, allora è qui che finisce la mia storia. Che figuraccia. Un anno e qualche mese prima. Ci è mancato poco. Stavo per fare una figuraccia. Ma lei è un generale. Cammina a... Ben tornata, Pruna. Ho fatto evolvere un po' di Charcanet. Adesso dovremmo avere abbastanza energia per far muovere la starmobile. Ah, ma... Ma quella presto è una donna. Ah, pensavo che era un uomo perché era tutta pitturata in faccia. Ok. Non sei d'accordo, però, di Ortiz. Quindi lui è un maschio. Ok. Ero convinto che fossi tutto a chiacchiare e niente fatti. E invece... Oh, ma piantala. Con questo tuo modo di fare. È insopportabile. Va dello stesso per te, Pruna. Ti fai sempre notare per me nel tuo modo di rispondere del tuo caratteraccio, no? Ma che, Ortiz, ne spera. Le ragazze dell'Accademia la bullizzano perché sono invidiosi della sua bellezza. Le sue rispostacce e le sue caratteristiche sono una forma di autorifesa per evitare di farsi prendere di mira. Ecco tutto. Quindi... È per quello che poi dai dell'occhio. Ma basta, ne spero e dai. A chi interessa sapere la mia vita, morte e miracoli? Diamoci un taglio, ok? È arrivato il momento cruciale. Ci siamo quasi. L'operazione Star sta per iniziare. Non vedo l'ora. Sento un fuoco dentro. Come il tipo che usi. Fuoco. Eh, capita? Il mio fuoco interiore ha bruciato intensamente. E adesso si è spento. È arrivato la fine per me. Il tuo cloff ci ha davvero dato dentro. Ed è riuscito a battermi. Non è mica un'impresa da poco. Tieni, è la mia medaglia team. Lei praticamente è un generale. Cammina come un generale. È una stretta di mano. È una stretta di mano. Ti fa male, su. E quanta forza avrà. Ah, ma perché ha gli anelli. Allora sì. Vabbè, vada come vada. Ormai non ho più nulla da perdere. Quindi tieni anche questa MT. Nitrocarica. Non hai nulla da perdere. Vai a scuola, per favore. Ah, che sia chiaro. Non la sto dando a te. È per Cloff. Eh, certo. Cloff impara Nitrocarica. Beh, hai ottenuto quel che volevi, no? Adesso lasciami stare un po' da sola. Tu sei pruna del Team Star, giusto? C'è un Pokémon che vuole incontrarti. E tu chi diamine saresti? Un Charcat, no? No, un attimo. Ma sei tu, Charletto? Che ci fai qui? È venuto qui alla base perché cercava proprio te. Death. Charletto. Sembra che questo Pokémon ti sia molto affezionato. Eh sì. Quando ancora frequentavo l'Accademia, giocavamo a Siamo ogni giorno. Col tempo ho imparato a capire come si sente guardando le sue fiammelle. Non sei curioso di sapere perché è venuto qui a cercarti? Charletto. Secondo me Charletto è triste perché gli manchi e vorrebbe che tornassi a scuola. E piantala su. Dicono che il Team Star si resta nelle sue basi a tramare un attacco contro l'Accademia. Ah sì? Che razzo di scemenza. Vedo che non è cambiato nulla. Sempre le solite fesserie. E chi mi dici di quel trabiccolo su cui te ne stavi fino a poco fa? Quella è la Star Mobility, l'abbiamo costruita tempo fa per uno scontro. Ma poi non l'abbiamo mai usata. Almeno non prima che arrivaste voi due. Mai usata? E poi di che scontro parli? Hai mai sentito parlare dell'Operazione Star? L'Operazione Star? Non l'Operazione Stardust? Non l'ho mai sentita. E immaginavo. Per noi del Team Star era un ricordo prezioso quanto un tesoro. E finisce così? Non ci dice altro? Quanto pare è finita così. Vabbè. Link. Mi è giunta voce che Pruna non è più in possesso della sua medaglia Team. Immagino che l'abbia consegnata. Chi te l'ha detto? Hai delle spie all'interno? Hmm. Capisco. Senza qualcuno a comando la banda scelera ai giorni contati. Pruna. Oh, scusa. Mi pensavo a voce alta. Come promesso ti invito le ricompense che ti spettano. Beh, è piena di crediti lega sta tipa. Non ti spi da fatto. Ho aumentato la quantità di MT che puoi creare con la macchina MT. Hmm. Hai svolto un ottimo lavoro là fuori. I materiali ti verranno consegnati dalla mia squadra di rifornimenti. Come forma aggiuntiva di ricompensa. Penny. Ciao, sono Penny. Della squadra di rifornimenti. Sicuramente ti sarai dimenticato di me. Ma mi ha dato una mano tempo fa. Di fronte all'entrata della scuola. Mi ricordo di te, certo. Ah, ok. Beh, comunque. Ho deciso di dare una mano con l'operazione. È per la mia ricerca di tesori. Starò dietro le quinte, visto che le mie specialità sono i macchinari, il hacking e cose così. Insomma, tieni. Questa è una ricompensa aggiuntiva da parte di Cassiopea. Potrei usarli per creare M.T. a volontà. Cassiopea mi ha detto di consegnarti delle ricompense ogni volta che sconfiggerai un capo del Team Star. Ho sentito che te Pokémon sono assiduri anche quando lattano per conto loro. Se sarò così forti non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ti rimangono ancora quattro capi bandana a sconfiggere. Beh, buona fortuna. Ciao. Allora, direi però che possiamo concludere qui il video. È stata una lotta particolare, devo dire. Forte, eh? È fortarella è stata. Quindi era meglio affrontare la palestra prima e poi affrontare anche Team Star. Però è andata così. Allora, e nemmeno amici, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon. Vi ho letto. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E devo assolutamente catturare questo tizio qui. Vabbè, ci torno dopo perché ho la squadra scarica. Quindi, se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.